Avevo un guanto un tempo, ma credo di averlo lasciato sulla faccia di qualche nobile. Edmond Rostand, Serrano de Bergerac. Benvenuti, questo è Mettiamoci la Voce. Io sono Maria Grazia. Io sono Francesco. Io sono Sandro. Ti sfido. Io sono Valentina. No, perché oggi veramente siamo sul duello. Non so se lo avete capito, questa citazione iniziale è legata a qualcosa di un po' più morbido. La nostra sfida dell'Academy. Tanto questo è proprio un gesto che abbiamo promesso come reward, si dice. Come ricompensa, ricompensa. Non si può più dire reward, è vero. Ricompensa, non si può più dire reward. Vuoi una multa? Una multa. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare, fare i complimenti a Roberto Cesaretti che ha vinto la prima, primissima sfida di Mettiamoci la Voce dell'Academy. Sì, perché all'interno di Academy da qualche tempo abbiamo inserito un elemento di sfida. E perché l'abbiamo fatto? Perché volevamo che la gente si picchiasse a sangue per ottenere in premio una paperella di gomma. Esattamente, questo è quanto. L'applauso va anche a tutti i partecipanti che sono stati nati. Ma allora, in cosa consiste questa sfida? Che i nostri fedeli academisti hanno un brano e ognuno di loro propone la propria versione, la propria lettura e tutti gli altri votano il preferito. E questo è una votazione democratica, nel senso che è una votazione inter pares. Esatto, il latino si può usare, vero? Il latino si può usare, allora inter pares. Inter pares, infatti, perché noi non votiamo. Esatto, quindi non c'è il primus inter pares, ci sono solo gli inter pares. E quindi… E primus in questo momento è Cesaretti. È Cesaretti, è Roberto Cesaretti. Il primo scudetto. E perché abbiamo voluto inserire un elemento di sfida? Ma in generale non parliamo solamente di noi. L'elemento di sfida all'interno dell'ambiente didattico è utile o non lo è? Pedagogista. Passa di qui un pedagogista. C'è in sala un pedagogista. Ferviamolo. Oh, salve, ditemi. Mi fa piacere che avete parlato del concetto di sfida perché mi dà l'opportunità di sottolineare. No, veramente un aspetto importante perché è legato al gioco. E il gioco, almeno primariamente legato al gioco, quando vogliamo apprendere, il modo migliore è appunto giocarlo. Sono i cuccioli di tantissime specie animali. Poi da adulto il gioco magari si fa più cruento, ecco, diciamo così. Come in questo caso, ci sono tutti morti e feriti. No, assolutamente, certo. A voce alta. Però, concettualmente, il discorso del gioco, quindi anche il gioco, ecco, il gioco non è tutta sfida, assolutamente. Se non filosofando la sfida con se stessi, ma non riusciamo più, ma è più che altro un gioco linguistico che non sarebbe molto corretto. Però, al di là di questo, c'è il fatto che giocare permette di confrontarsi, di misurarsi con una prova di cui non sappiamo ancora l'esito. E allora, a un certo punto, giochiamo in modo da, cercando di vincere, ed è in questo concetto il discorso della sfida, no? Certo, perché si tende a dare il meglio. Il meglio, brava, il meglio. Quando dai il meglio, cerchi di prevalere. Non è una prevalenza sull'avversario, diciamo, tu a vita mia, come purtroppo la sfida e sono diventate poi da adulti. Ancora una volta gli adulti, una volta finiti, i bambini si dimenticano. Ed è veramente un delitto, purtroppo ne sappiamo. Comunque, al di là di questo, se noi manteniamo il bambino che è noi e che ognuno ha, solo che a volte è un po' troppo sepolto, ma si tratta semplicemente di togliere un po' di ruggine in ognuno di noi, trovare questa sfera ludica della sfida nel confrontarsi l'uno con l'altro. Perché poi, oltretutto, non è che uno dice, devo vincere sempre io. Cioè, anzi, per certi aspetti la sconfitta è molto educativa, perché ti permette, grazie all'individuazione degli errori che hai fatto perdendo la sfida, di migliorarti. Mettiamo un piccolo distinguo, però. Tutto questo se l'approccio alla sfida è orientato al miglioramento o comunque è orientato all'apertura mentale. Perché se invece l'obiettivo è vincere, ma con qualsiasi mezzo, intendo, il discorso cambia molto, perché a quel punto non sarò più ricettivo alla scoperta dell'errore o comunque alla scoperta della cosa che non mi ha permesso di arrivare al risultato che avrei voluto, ma non il risultato inteso come vittoria o sconfitta, ma al risultato finale di quello che io ho prodotto, che avrei voluto. Quindi diventa solo ed esclusivamente un io ho vinto, io ho perso, che fa perdere totalmente il significato della sfida. Una cosa importantissima che hai detto, perché hai citato e citiamo sempre i maestri in questo caso, in questo campo, sono i bambini. I bambini sono insuperabili e ci insegnano loro che cosa significa giocare, cosa significa sfidarsi. Tra i bambini la cosa più abberrante è barare. Se ti beccano a barare, tu sei veramente tagliato fuori, perché sei veramente un inetto. Gli adulti invece tante volte... Eh, perché quando confondi il fine che qualcun altro determina, però, e il prodotto di quello che tu hai fatto, invece, arriva la stortura per cui ho vinto, me ne frega niente se eravamo in due, e una corsa sui cento metri in due e di cui uno è infortunato. No, ho vinto io, punto. Sì, sì, alla guerre come alla guerre, purtroppo il gioco poi diventa guerra. E allora è diverso. Nel nostro caso è vero che misurarsi con una lettura espressiva dovrebbe essere anche un gioco nel senso di un divertimento, no? E c'è anche da dire che, dato che sono proposte ogni mese, ogni mese noi cambiamo tipologia di testo. E quindi è vero che qualcuno può essere anche più favorito rispetto ad altri. Perché? Perché magari gli si propone un genere che preferisce, un autore che... Che conosce. E quindi anche in quello sta il divertimento appunto del misurarsi tutti, tutti quelli che vogliono naturalmente, nulla è obbligatorio, nella lettura e nella proposta. E secondo me il vero atto di coraggio è il proporre il file audio alla valutazione degli altri. Perché qui rientriamo in un argomento che abbiamo già ampiamente dibattuto e che quindi non riporto in piazza. Però è vero che il giudizio è qualcosa che noi temiamo. La valutazione è qualcosa di più morbido che dovrebbe servirci per crescere. Quindi credo che fra i componenti dell'Academy ci sia questo bel rapporto, che si valuta anche nelle live di lettura che noi facciamo settimanalmente, che è proprio un ascolto, si basa su un ascolto reciproco e anche sul desiderio molto spesso di darsi dei feedback. E questo io lo trovo già molto interessante. Infatti uno degli aspetti interessanti di questa attività che abbiamo lanciato è quella di gruppo. è quella del come poi questa attività si sia riverberata su un aumento della comunicazione anche tra i nostri Academist, tra le persone che frequentano l'Academy. Ed è estremamente positivo perché questo sì che ti dà quell'energia in più per volerti mettere in gioco, per volerti mettere alla prova, perché non sei da solo a quel punto. Crea un ambiente favorevole al mettersi in gioco e al provare. Ma manifesta una delle nostre intenzioni, uno dei nostri valori portanti, che è la relazione. Perché per noi fare voce significa anche fare relazione, soprattutto all'interno poi di un contesto come quello di Academy, che è un contesto di gruppo a tutti gli effetti. Ma la relazione è un aspetto su cui, oserei dire, insistiamo tanto. Quanto meno insistiamo, credo, in maniera gentile cercando di portare la relazione in maniera naturale. E l'altra parola chiave che è ascolto, che è fondamentale. Ascolto reciproco. Ascoltare me stessa può essere un po' più impegnativo. Ascoltare gli altri mi può davvero nutrire, perché mi rispecchio in determinate cose e quindi imparo. Certo. Quindi la sfida, avremmo bisogno di uno stratega in questo modo, che però forse abbiamo al tavolo. Qualcuno abbia, o passa uno strategico. Prima un pedagogista. Prima un pedagogista, adesso uno strategico. La sfida, quindi, è anche un elemento strategico, in qualche modo. Può far parte di una strategia, in questo caso, di insegnamento barra apprendimento? No. No, punto. No, scusate, era più forte di me. Sto riflettendo sulla domanda, che non era ovviamente preparata, per cui sto riflettendo sulla risposta. Nei termini in cui questo ci aiuta a scoprire noi, e a scoprire come funzioniamo, molto. Ti faccio un esempio. È stato divertente vedere i diversi approcci delle persone alla sfida. C'è chi ha fatto 26 versioni della stessa lettura, per poi mandare quella che gli dispiaceva di meno, perché non ho mai sentito quella che mi piaceva di più. No, che mi sembrava meno peggio, da una parte. Dall'altra, invece, chi è più tranquillo, si è lanciato e ha buttato subito il suo risultato. Questo, però, ci fa capire anche qualcosa di noi. Ci fa capire come affrontiamo una sfida al netto del contesto in cui siamo. Quindi, ovviamente, se abbiamo più tempo, meno tempo. Chiaro che quello influisce in modo molto importante sul come lo affrontiamo. Ma, al netto di questo, come ci relazioniamo con questo tipo di elemento sfidante e di attività sfidante, dice tanto del come affrontiamo la risoluzione dei problemi, ad esempio, per cui c'è chi li affronta rifacendo 50 volte la stessa cosa finché non arriva al risultato che pensava, c'è chi si lancia, si butta e poi spera che vada bene, c'è chi magari si prepara e poi registra. Per cui, sì, è un ottimo strumento di conoscenza. Il gioco in sé è un ottimo strumento di conoscenza di sé. E poi tutto questo, se lo riportiamo su una dinamica di gruppo, quindi come interagiamo con la sfida in sé, quindi con l'obiettivo della sfida, ma in un contesto di più persone, questo aumenta ancora di più perché ci dà modo di capire anche come ci relazioniamo in funzione delle nostre difficoltà e delle soluzioni che dobbiamo trovare a problemi in un contesto di gruppo. Per cui, secondo me, inizia a diventare uno strumento estremamente importante, soprattutto da adulti. Sì. E come dicevi tu, è importante anche viverla in maniera che sì, il risultato, il divertimento, però proprio l'essersi messi in gioco, anche perché non dimentichiamoci che la votazione è condizionata da tanti fattori, dal nostro gusto personale. Poi ci sono anche, certo, i parametri oggettivi per cui siamo tutti capaci di valutare la qualità di una lettura, però c'è tanto anche un discorso di simpatia, simpatia proprio nel senso letterale. E sfatiamo anche un altro piccolo luogo comune, il Marchese de Coubertin del tanto citato l'importante è partecipare. Ricontestualizziamolo un attimo. È ovvio che chiunque lo faccia, lo faccia non tanto sapendo o sperando di vincere, ma se vinci è meglio, ecco. Guarda, mi fai venire in mente Velasco, che tu conosci bene, perché è un grande allenatore di pallavolo, ma poi è diventato una sorta di filosofo non solo dello sport. Lui è filosofo. Lui è filosofo? Lui è filosofo. Ora ci spieghiamo tante cose. Ah, adesso capisco molte delle più cose. Beh, comunque invitava ad osservare, i filosofi invitano sempre ad osservare, osservare i bambini quando giocano e sembra che si arrabbino. In realtà stanno divertendosi da pazzi e guai a togli a Dio la bicicletta perché cade sempre oppure il puzzle che non riesce a farlo. sembra che sia proprio arrabbiato, ma la sfida nei confronti del puzzle si accalora. Proprio la frase che immaginifica è guardate i bambini quando giocano, i bambini quando giocano non ridono. Non ridono, cioè sono concentratissimi. perché da adulti ma si divertono però. Da adulti, questo mi arriva dallo sport tanto, da adulti poi ci arriva questo concetto per cui il divertimento è ridere, è l'attività sguaiata, l'attività non codificata, l'attività fine a se stessa solo per il gusto di divergere, di divertirsi. Ci sta, va bene, ma non è quello. di base la dinamica ludica di un bambino non è quella. Esatto. E neanche da adulti dovrebbe essere quella la dinamica ludica più di tanto. Eh sì, è divertente. No, ma non ero divertente. Non mi ha fatto ridere. Allora, ma che c'è? Devi ridere per forza? Cioè, per divertirsi? No. E quindi da questo capiamo che divertirsi non vuol dire ridere e che la nostra sfida non ha niente a che fare con i guanti lanciati. Vi posso fare un esempio assolutamente personale. Qualche mese fa esperienza con Valentina di Aerogravity. Aerogravity è un tubo, sostanzialmente un tubo di una decina di metri con in fondo alla base una ventola che ti spara l'aria a 300 km all'ora e ti fa volare. E quindi ti fa, se tu fai attrito, fai resistenza all'aria, ti fa rimanere in equilibrio o ti manda addirittura o ti manda addirittura su una. Lo fai con l'istruttore chiaramente. Sì, sì, sì. Io non credo di aver sorriso una volta. mi stavo divertendo da pazzi, ma ero talmente concentrato su quello che dovevo fare, volevo fare, su quello che volevo ottenere, perché ogni minima variazione dell'inclinazione delle mani, dei piedi, della posizione delle gambe, di dove guardi, di dove guardi, ti cambia la, come si dice, la posizione, ti cambia la tua relazione con l'aria, per cui fai cose diverse, ruoti su te stesso, ti giri, ti fai, ok? ero talmente concentrato su riuscire a fare quello che volevo e che mi avevano detto che avrebbe aiutato fare, che non ho sorriso una volta. Infatti, l'indicazione dell'istruttore era sorridi, ti dà la serie, divertiti, ma cazzo, scusate, questa la tagliamo dopo. No, no, io nella mia testa stavo pensando, io nella mia testa mi stavo dicendo, ma io mi sto divertendo da pazzi. Guarda allora un'altra parola chiave che tanto usiamo, concentrazione, che non è una roba di sforzo, di stare dentro a quello che stiamo facendo. E' una roba che stavo facendo che non stavo sorridendo, ma proprio per niente, sembrava che mi stessero mandando al patibolo probabilmente da fuori. Puoi anche testimoniare il fatto che quando io faccio editing ho una faccia che sembra che voglia bestemmiare dentro fortissimo. In realtà io mi diverto come una matta, solo che in quel momento sono talmente concentrata che non esprimo altro. E da lì forse, non da voi due, ma voglio dire in generale, che nasce l'idea che concentrarsi sia uno sforzo. No, è che probabilmente in quel momento la nostra attenzione è talmente forte verso l'obiettivo che il sorriso è alto. e questo viene dopo quando appena si è finitato. Anche lì non è neanche detto quello perché potresti avere impiegato talmente tante risorse per arrivare alla fine del compito che ti eri dato che sei talmente stanco che ti scarichi sei sollevato sei felice ma non stai ridendo magari sei semplicemente senza forze. Abbiamo un po' divagato. Abbiamo un po' divagato. Abbiamo un po' divagato. Neanche tanto perché è stata una bella sfida. È stata una bella sfida. Chiudiamo con la specifica che è passata in maniera velata che sfida per noi non significa stimolare la competitività con accezione negativa. assolutamente no. Costruttiva. Esatto. Parliamo di gesto costruttivo del gesto costruttivo e non consideriamo vittoria e sconfitta come assolute ma semplicemente come tappe del percorso perché in realtà volendola vedere in maniera volendola prendere un po' più in larga non si perde mai davvero. Ma la vera sfida si vince sempre si vince tutti i signori se c'è una vera sfida è con noi stessi nel momento in cui magari ci forziamo un po' per produrre nel nostro caso una lettura che sia al meglio di quello che possiamo fare. Perciò se volete condividere con noi la vostra idea di sfida la vostra visione della sfida e quante volte vi piace non vi piace mettervi in sfida con voi stessi o con altre persone potete farlo con un commento sotto il video su Spotify su YouTube che noi ogni volta ripetere le stesse cose. E se volete invece provare a mandare la vostra di sfida entrate in Academy. Ah giusto tanto tutti i link sono in descrizione per cui ciao ciao! 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 Grazie a tutti